Non solo Firenze, Ravenna e Verona, la figura di Dante, anche se in molti non lo sanno, è legata anche a Pisa, dove il sommo poeta visse a lungo. Una città che oggi lo celebra con l'evento Dante Posticipato, un festival che apre i battenti il prossimo 25 maggio per concludersi. Il 28, quattro giorni di iniziative nate dalla mente di Marco Sant'Agata a 751 anni dalla nascita del poeta. Molto interessante il fatto che venga reinterpretato e rivisto in chiave contemporanee e quindi vengano riprese tutte le grandi sfaccettature che ha una figura come Dante e la sua opera. Così Pisa abbraccerà Dante, in alcuni luoghi simbolo della città, da Palazzo Gambacorti fino al Teatro Verde o a Palazzo Blu, toccando poi le strade ancora Piazza Duomo, Piazza del Carmi e il Campo Santo Monumentale, con reading, spettacoli, dibattiti e proiezioni. Tanti personaggi che hanno sposato il progetto per celebrare Dante saranno a Pisa, da Pupi Avati fino a Massimo Vrai, con città dei Gregori e ancora Valerio, Massimo Manfredi e Sergio Staino. La fonte che ispira questa iniziativa è inesauribile e ha questa volta anche una dimostrazione scientifica, storica, dell'importanza che ha avuto Pisa per Dante, non solo nelle sue opere ma anche per le sue opere. Quindi ci saranno anche delle rivelazioni, delle scoperte che potranno amplificare anche l'effetto di questa celebrazione. Tra i gioielli che celebreranno Dante a Pisa c'è un film in programma sabato 28 maggio al Cinema Arsenale, si chiama Ammirabile Visione e porta la firma del regista Carambo, una pellicola muta del 1921 completamente restaurata che andrà in sala a Pisa in anteprima nazionale. Infine sono in programma due mostre, una a Palazzo Blu del disegnatore Guido Scarabattolo e una a Palazzo Lanfranchi del bittore Tono Zancanaro. Grazie a tutti.